buongiorno bambini guardate chi era questa era la rabbia e l'abbiamo imprigionata dove in una scatola bravi ecco bimbi oggi sono qui per farvi vedere come realizzare questa scatola una scatola della rabbia dove noi possiamo andare a urlarci dentro tutta la nostra rabbia quando qualcosa non ci piace o qualcosa non va bene oppure siamo siamo arrabbiati con mamma papà con i nostri fratellini perché ci hanno tolto un gioco perché non ci hanno fatto riconoscere delle cose perché non abbiamo non abbiamo saputo dimostrare a loro quello che ci piaceva fare abbiamo deciso di urlare la nostra rabbia qui dentro e l'abbiamo chiusa attenzione a riaprirla perché poi viene fuori quando poi ci saremo calmati parleremo con i nostri genitori aprendo la scatola della rabbia e cercando di capire perché in quel momento ci siamo arrabbiati bene bimbi questa scatola della rabbia l'ho fatta tutta di rosso l'ho dipinta di rosso e l'ho fatta anche con dei pezzettini di carta per fare questa scatola di cosa abbiamo bisogno di una scatola oppure di un sacchetto se non abbiamo una scatola poi possiamo utilizzare la nostra fantasia io ho utilizzato dei pezzettini di carta crespa oppure potreste utilizzare dei pezzettini di cartoncino che ho incollato con un pennello e la colla vinilica la colla vinilica che ha fatto la maestra rachele vi ricordate questa settimana oppure possiamo dipingerla di rosso o di qualsiasi altro colore però visto che il colore della rabbia è rosso ho preferito farlo di questo colore mi sono servita delle forbici di un altro pennello dei colori quindi bimbi voi potete fare la scatola come più vi piace mettendoci tutta la vostra fantasia e tutto il vostro estro e genitori mi raccomando lasciateli liberi di fare quello che vogliono su questo loro strumento perché solo è loro e quindi hanno bisogno di esprimere tutta la loro creatività facendo una parte di se stessi perché costruendo questa scatola loro fanno una parte di se stessi un luogo dove poter metterci dentro tutta la loro il loro disagio e la loro rabbia allora genitori e cari bambini io vi saluto vi mando un forte braccio e ci vediamo la prossima ciao